Ciao ragazzi, ciao ragazze, oggi vi presento il libro illustrato, quasi un fumetto direi, dedicato a Messi, intitolato proprio Supercampioni, Messi, fatti a nebbi più numeri, scritto da Simon Matforth e Dan Green, edito da HarperCollins. Lionel Messi è considerato da molti il più grande calciatore di sempre, come ha fatto a diventare una tale leggenda. La sua avventura parte da lontano, quando a soli 12 anni ha lasciato l'Argentina per volare in Spagna e indossare la maglia del Barcellona, che oggi grazie a lui è la squadra dei sogni. Ripercori la sua storia incredibile e stupisci i tuoi amici e le tue amiche con tutti i numeri di Messi. Per scoprirne di più dovete leggere Messi, Messi Reuss, fatti aneddoti e numeri, di Simon Matforth e Dan Green, edito da HarperCollins.